La campagna elettorale di Matteo Salvini passa anche per la stazione centrale di Milano, teatro la scorsa settimana della terrificante aggressione che ha fatto il giro del web e delle televisioni. E a margine del sopralluogo, il leader della Lega ha risposto ad alcune domande dei giornalisti. Io lavoro per unire il centro-destra, che ora sta lavorando sul programma. Mentre Dila spiega Salvini riferendosi al centro-sinistra vero che ci sono una, due, tre, quattro frange diverse e divise. Dunque, la bordata contro il leader di azione Carlo Calenda, e se devo fare una scommessa posso ipotizzare che dopo tutte le chiacchiere e gli insulti Calenda si acquatterà con il pede Saravalido alleato di Luigi Di Maio, Roberto Speranza e degli ex grillini. Alla faccia di tutti e tutto che la poltrona vale più di tanto altro picchia duro Salvini. Dunque, il leghista richiama un tema decisivo per la Lega, quello dell'autonomia. Chiederò agli alleati, a Meloni e Berlusconi, impegni su alcuni temi che per la Lega sono determinanti, come l'autonomia, ha specificato. Se il centro-destra vince, il programma lo stanno mettendo giù Fontana e Zaia. L'autonomia deve essere firmata e sottoscritta come valore aggiunto da tutto il centro-destra. E spero che i temi della sicurezza siano patrimonio comune di tutta la coalizione. Interpellato sui recenti attacchi ricevuti dai partiti delle sinistre, il leader della Lega ha tagliato corto. Io baggio ai temi concreti e arrivo al 25 settembre, poi i voti si conteranno nelle urne il 25 settembre. Agli insulti di PD 5 Stelle e Letta preferisco non rispondere.